Ciao ragazzi, sono Gabriele, il maestro della scuola di ballo Mambo Jumbo Dance di Carmagnola. Insieme a Nadia abbiamo pensato di girare questi video per aiutarvi a ricordare le figure. Mi raccomando, fatene buon uso! Baciata 70 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 E ora non mi resta che metterlo in pratica! Al prossimo video! Al prossimo video!